In questi giorni ho fatto pure un salto in varie OVS e ho trovato, diciamo, marche molto belle e anche non tanto costose per quanto riguarda bigiotteria Ho trovato Mickey London, questa è una collana Il prezzo è 14,99 E una di quelle collane molto strette Questa l'ho presa all'OVS di Milano quella di via Torino, angolo via Spadari In questa stessa OVS ho preso anche questa che è un'altra di quelle molto strette 6,99 Con la perla, mi è piaciuto un sacco Ho preso poi questi orecchini 16,90 E sono orecchini che vanno bene con una collana che avevo preso tempo fa Poi ho preso quest'altra collana Questa è molto più lunga Si vede anche dal dietro 14,99 Forse costa meno questa che Questa che vi ho fatto vedere prima 14,99 Questa qui 14,99 costa meno questa come lavorazione che questa Ma diciamo La cosa fa un po' ridere poi Dulcis in fundo Ho preso una delle sette meraviglie Questa Mi sono innamorata di questa quando l'ho vista Tremendamente Non ho potuto farne a meno 24,99 Sinceramente Le varie tutte Poi ho preso Questa E che è una fascia per capelli Spero vi piace A me è piaciuta tanto Soprattutto perché Mi metterò la parrucca Quindi Ottima per tenere la parrucca Adesso mi rimetto con la vecchia Questa è sempre una OVS 4,99 Questa invece è bella così Questa è una cosa da 35 Un po' troppo Per i miei gusti Alcune OVS Non vendono La marca Mickey London Ma vendono la Cleos Io ho preso Questo della Cleos Braccialetto 5,99 5,99 Molto bello Veramente Che c'è il filo dietro per attaccarlo 12,50 Questa forma di collettero Era una di quella che volevo 9,90 Non costa proprio Poi ho preso Quella con tutte le perle Dalla più piccola Alla più grande Vedete È più piccola E poi sempre più grande È pagata solo 9,99 In pratica 10 euro Stupenda Questa marca qui La Cleos Invece l'ho trovata Sempre all'OVS Però quella di San Vittorio Lona Al centro commerciale La Carbonaia Un'altra che ho comprato lì È stata questa Questa è più corta Il collier Lavorazione tennis 12,99 L'OVS L'OVS L'OVS